Si rafforza il rapporto tra Guardia di Finanza e SAST, il soccorso alpino ospilologico toscana, nelle attività di aiuto alle persone in difficoltà in montagna. Lo strumento è un protocollo di intesa sottoscritto alla presenza delle massime autorità della provincia alla caserma Mazzino Mori, sede delle Fiamme Gialle Pistoiesi. Sono circa 12 militari specializzati, cui si sommano poi unità cinofile, in servizio sulla montagna pistoiese, circa 30 i volontari SAST della stazione Appennino Toscano. Rafforza ancora di più, voglio dire, noi come volontari e loro come forza di polizia e giudiziaria, ma anche e soprattutto nella sinergia sugli interventi in montagna. Questo porterà chiaramente a un aumento della professionalità nei confronti di coloro che fanno gli sport in montagna o che frequentano comunque la montagna. L'accordo individua modalità condivise di allerta e attivazione di soccorsi, con l'obiettivo anche di rafforzare le attività di formazione ed addestramento congiunto. Una collaborazione che prosegue oramai dal 2018, quando è stata istituita da Betone la stazione di soccorso alpino della Guardia di Finanza. Nell'arco di questi anni, nei circa 300 interventi che abbiamo fatto, più di 200 sono stati fatti già in collaborazione con il soccorso alpino civile. Quindi è una bella sinergia. Con il protocollo di oggi formalizziamo e mettiamo nero su bianco quello che già veniva nei fatti e istituiamo anche una cabina di regia e di raccordo che consente nel tempo di migliorare ulteriormente quella che è la collaborazione e le tecniche comuni di intervento.